buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale youtube vediamo in questo filmato una scheda di sviluppo molto particolare e curiosa che è una scheda di sviluppo o training card che dir si voglia basata sul processore scmp meglio conosciuto forse con il nome di scamp che è un processore appunto della national semiconductor che è stato commercializzato verso metà degli anni 70 se non ero intorno al 1976 e questa qui è una scheda realizzata intorno al 1977 guardando al date code degli integrati che mi è stata gentilmente donata da da coloro che all'epoca l'hanno realizzata e ovvero il signor mauro e il signor roberto che ringrazio ancora infinitamente per questa donazione allora la scheda come potete vedere è sostanzialmente quello che la national chiamava scamp kit ovvero appunto una scheda di sviluppo per il processore prodotto da loro scamp questo qui la scheda è appunto di costruzione artigianale e suppongo immagino che sia stata realizzata con la tecnica dei trasferibili e dopo con immersione nel nel cloruro ferrico per essere poi sviluppata allora se andiamo a appunto osservare meglio la scheda notiamo che gli unici dispositivi di input sono degli switch e dei pulsanti e gli unici dispositivi di output sono dei led questo perché questa scheda per essere appunto programmata e appunto testare volendo le funzionalità del processore questo era il principale scopo bisognava inserire le istruzioni manualmente selezionando l'indirizzo e il dato anche che si voleva immettere tutto tramite pulsanti e led allora la scheda come forse avrete intuito monta il processore scamp questo qui della national semiconductor e poi qui troviamo questo integrato qui a 22 pin che è della fairchild un 3539 che è un integrato di ram e in particolare questa qui è una ram da 256 bit per 8 bit quindi 256 byte era appunto la ram massima che uno poteva utilizzare per inserire un suo programma ad esempio e in particolare quando veniva tolta la corrente andava tutto perduto anche se osservando sulla scheda ho visto che c'è una rail separata 5 volt ram quindi probabilmente volendo si poteva collegare una sorta di batteria esterna per tenere appunto la ram alimentata e quindi non perdere il contenuto poi ci sono altri integrati di supporto tra cui c'è un ne555 questo qui della signetics del 76 che gestisce il reset sostanzialmente poi vi sono per lo più ttl di porte logiche ad esempio 74 ls 00 dopo di che ci sono alcuni buffer se non erro qui dovrebbe esserci un 74 ls 367 e poi qui ci sono appunto questi 74 75 che sono dei dei led appunto che controllano i led che potete vedere qui la scheda è stata realizzata secondo me molto bene ed è carino anche il fatto che venga riportato appunto serigrafato a matita il nome dei componenti e anche della funzionalità degli interruttori degli interruttori degli interruttori di switch e anche che sia tutto appunto montato su zoccolo ok e qui appunto abbiamo i led che simboleggiano gli indirizzi qui i led che simboleggiano i dati e questi credo siano dei led ausiliari appunto da usare come input output sostanzialmente credo ecco la scheda è questa qui andiamo adesso a vedere il data sheet del processore questo qui scamp che praticamente all'epoca non era praticamente diciamo molto utilizzato cioè sostanzialmente venivano utilizzati di più il 6502 oppure lo z80 e non mi viene in mente nessun computer che utilizzasse lo scamp però forse credo che nuova elettronica ne realizzò uno se non erro il microcontroller in basic che utilizzava appunto un processore simile allo scamp ecco possiamo vedere qui il data sheet del microprocessore scamp che ho appunto scaricato dalla rete dal sito di bit savers appunto il data sheet è questo qui qui viene riportato il logo della national semiconductor e questa qui è la sigla che di fatto è stampata sul microprocessore scamp qui c'è una descrizione generale appunto scamp è l'acronimo di simple cost effective microprocessor che è appunto un microprocessore ad 8 bit contenuto in un case dual in line a 40 pin qui appunto nella descrizione generale viene specificata ad esempio la capacità di indirizzamento anche una questione dopo di costo qua sono riportate alcune feature salienti tra cui appunto che gli ingressi e le uscite sono ttl compatibili vi è un dma appunto direct memory access poi viene specificato appunto che l'hardware di input out potrebbe abbastanza semplice le interfacce sono flessibili e anche che appunto può essere interfacciato dopo questo processore con memorie appunto standard quindi ad esempio delle prom, delle ram eccetera qui c'è il block diagram e qui viene riportato il pin out al vero e proprio del processore questo qui appunto potete vedere è uno schema molto generale poi sono riportati appunto gli absolute maximum ratings sono praticamente dei parametri presenti nei data sheet di qualsiasi componente tra cui appunto il voltage range su qualsiasi pin deve essere questo qui la temperatura operativa appunto può arrivare fino al massimo di 70 gradi dopodiché diciamo è un problema per il processore e qua è curioso che viene riportato anche la, interessante, la temperatura di saldatura se noi andiamo a saldare direttamente il componente su scheda la temperatura massima che posso portare sono 300 gradi per un massimo di 10 secondi qui sono riportate le applicazioni appunto alcune applicazioni su computer business sistemi appunto business, sistemi di word processor quindi word processing e sistemi educativi tra cui il caso è la scheda che ho recuperato io e poi terminali e applicazioni nell'automotive qui sono riportate delle caratteristiche elettriche su alcuni, suppongo anche qua, terminali del chip punto 1 logico, 0 logico qui c'è un riferimento anche sulle correnti in particolare delle correnti di uscita sono queste qui dopo di che altre specifiche riguardo al timing quindi tempi, ritardi, eccetera appunto riportati per lo più in nanosecondi data input, data output, cycle potete vederli qui dopo di che c'è una descrizione appunto funzionale appunto è un processore general purpose 12 bit sono dedicati appunto per indirizzamento nell'address bus ed è un processore con bus dati a 8 bit qui vi è lo schema a blocchi più esteso più corposo dove appunto viene specificata la struttura interna dove si possono riconoscere elementi comuni diciamo a qualsiasi processore tra cui ad esempio la ALU qua c'è un registro di stato l'accumulatore presente sicuramente e il program counter dopo qui possiamo vedere appunto il bus di controllo e appunto l'address bus e qui sotto il data bus a 8 bit qui adesso c'è una descrizione più dettagliata dei pin del processore sono quelli che abbiamo visto sopra abbiamo visto qui questi qua vengono descritti qui sotto la loro funzionalità appunto i vari address strobe write strobe i segnali di sensing eccetera poi qui viene specificato appunto che l'indirizzo l'address bit 12 è il più significativo dopo di che questa qui dovrebbe essere la struttura interna proprio a livello di MOSFET del chip qui abbiamo appunto viene specificato il discorso timing il formato delle istruzioni appunto qui viene spiegata la funzionalità dei registri extension register registro di stato registro istruzioni eccetera viene spiegato appunto nel dettaglio trasferimento dati anche qui qui possiamo vedere appunto una sequenza un diagramma di flusso appunto per quanto riguarda appunto il segnale B-REC B-Request che sono appunto è sempre un terminale del chip di fatto e qui viene riportato l'andamento appunto dei segnali poi qui dovrebbe esserci qui sotto anche appunto riportato qualcosa riguardo al set di istruzioni che appunto sono 46 istruzioni per il processore e qui appunto viene riportato poi anche quanti cicli quanti cicli anzi richiede ogni istruzione tra cui istruzione AD istruzione JUMP eccetera e sostanzialmente poi qui viene riportato infine l'implementazione del sistema appunto collegandoci una ROM esterna volendo anche una PROM e poi delle RAM esterne qui appunto richiede un quarzo per fornire il clock di sistema e sì sostanzialmente il datasheet è questo qui ecco ho collegato la scheda SCMP ad un alimentatore e come potete vedere i led della scheda si sono accesi in questo modo come potete vedere una prova che ho fatto è stata di premere questo tasto qui che è appunto denominato LPH e ho visto che premendolo più volte di fatto su questi led quello che si verificava era che si visualizzava una conta in binario che adesso vi faccio vedere questo rappresenterebbe lo 0 su questi 4 led l'1 il 2 il 3 4 5 6 7 e 8 9 e così via ecco abbiamo appena visto in breve la funzionalità della scheda accesa in particolare abbiamo visto l'incremento dei dati e tramite questa operazione di selezionare gli indirizzi e ad esempio inserire i dati e poi scriverli premendo write e abbiamo visto che sostanzialmente questo era come appunto programmare il processore su questa scheda che appunto è una scheda appunto didattica per insegnare appunto la programmazione linguaggio macchina del processore scamp probabilmente adesso sto cercando se si trova ancora qualche manuale appunto per programmare lo scamp con alcune istruzioni alcuni esempi e comunque devo dire che questa scheda è veramente molto molto interessante che si trova ancora Ecco colgo l'occasione per ringraziare ancora Mauro e Roberto per avermi donato questa scheda e spero che il video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale YouTube. Grazie